Maluzzo, per quale motivo questa mattina si è dimesso? Nel momento in cui qualche consigliere comunale lancia accuse dicendo che la Commissione Urbanistica in questo anno di lavoro non ha potuto lavorare bene perché il Presidente non è stato imparziale è giusto qui una mia risposta chiara e netta a questo consigliere comunale dicendo io sono pronto a dimettermi, l'ho fatto questa mattina così come promesso nei giorni scorsi e naturalmente adesso aspetto anche le risposte di altri consiglieri comunali che vadano un pochettino a legittimare quello che è il lavoro che non è stato fatto in Commissione o che è stato fatto male e quindi da qui mi apro anche a tutto il Consiglio Comunale mi apro anche alla presidenza del Consiglio che deve dare delle risposte a queste accuse false che sono state mosse nei miei confronti. Cosa vuol dire non è stato imparziale? Vuol dire non essere libero in quella che è la stesura dell'ordine del giorno quindi di essere legato a logiche politiche ma io ribadisco che al di là di tutto all'interno delle commissioni non si fa politica all'interno delle commissioni sono degli organi consigliari di controllo che vanno a filtrare quello che è il lavoro che poi arriva in Consiglio Comunale in un anno è stato fatto questo e abbiamo tra l'altro prodotto degli atti importanti abbiamo analizzato atti importanti e voglio ricordare che questa commissione è stata forse una delle poche che anche il respinto degli atti è mandato indietro. Pertanto io adesso tolte queste sciocchezze vorrei ritornare finalmente a parlare di politica a parlare di contenuti, a parlare di come agire all'interno di un contesto sociale ed economico che sta distruggendo e sta ulteriormente deteriorando quello che è il tessuto della nostra città. Non ci sono margini per ritornare a presiedere la commissione? Lo vedremo, io oggi malgrado la presentazione delle mie dimissioni i colleghi consiglieri di commissione erano tutti contrari perché realmente sono loro che possono valutare quello che è stato il mio operato quello che è stato il mio lavoro all'interno della commissione e quindi mi sono rimesso a loro e mi rimetto nelle mani del Presidente del Consiglio e quindi sono pronto poi ad assumermi naturalmente anche se i colleghi consiglieri potessero fare altre scelte quindi assumermi anche la responsabilità di poter dire faccio un basso indietro e andiamo avanti. Comunque questo naturalmente non mi scoraggerà per quello che è il lavoro che ho fatto e per il lavoro che farò quindi sarò ancora a disposizione dei colleghi consiglieri come tecnico all'interno della commissione.